Si riscalda l'aria e si infiamma anche il calcio mercato in Basso Molise. L'Aurora Aururi sarà la prima a partire in eccellenza. Infatti i carresi dal lunedì 3 agosto inizieranno a sudare al Fiorilli per preparare il ritorno nella massima categoria regionale. Tra le operazioni condotte dal direttore sportivo D'Alessandro, il ritorno in giallo-rosso dell'ex Termoli Antonio Iannacci, forte difensore centrale, e dell'attaccante Mattia Cacchione dalla Cliternina. Ha salutato il gruppo Vito Casalanguida, destinato a reaccasarsi per problemi lavorativi alla polis Petacciato in prima categoria. Proprio i gialloneri si stanno organizzando per una prima categoria da vertice, anche se con una dirigenza solida potrebbero tentare il salto tra i cadetti già in questa estate. A Termoli le due società adriatiche stanno muovendo i primi passi. Il calcio Termoli vede in vetrina il presidente Castelluccio con mille idee per la testa. Dopo un incontro con l'amministrazione comunale, il patron del team di eccellenza sembra spronato a restare in città per costruire una compagine di degno rispetto, ma soprattutto con molti aiuti societari per fare bella figura. L'imprenditore campano trapiantato a Vasto ha lanciato l'ipotesi di gestire come società il Gino Cannarsa. Se ne saprà di più la settimana prossima. Se dovesse cedere la società, Castelluccio potrebbe raggiungere Basler, con cui è già stato a Vasto a San Salvor, per rinforzare il club dei guionesi, che dovrebbe promuovere a trainer Antonio Dallocco nell'ultima stagione, giocatore del Real, ma anche coallenatore della Juniores. L'enorme esperienza acquisita tra i professionisti permetterebbe all'ex Foggia Vasto e Campobasso di sedersi per la prima volta su una panchina. L'altro team giallorosso, il Termoli 2016, potrebbe puntare a sorpresa ad iscriversi al massimo campionato d'eccellenza, fra lo stupore generale. Il presidente Emanuele Di Biase cercherà forze fresche societarie in città. Intanto si strezza l'occhio, da voci di corridoia, mister Massimo Ricci, di cui si dice un gran bene dopo la positiva esperienza con i baby della polisportiva Santi Pietro e Paolo di Termoli. Potrebbe salutare Alex Capossi, destinato al San Salvo. Proprio i vicini abruzzesi stanno allestando una squadra di tutto rispetto per cercare di tornare in eccellenza. Il direttore sportivo è Molesano Gianluca Senese di Montenero di Bisaccia e lo scorso campionato ha stravinto la promozione con il Casal Bordino. Con lui approda al San Salvo anche il trainer Gianni Borrelli, un passato in Serie D sulla panchina dei monteneresi. Lì dovrebbe seguire anche il difensore capitano Silverio Benedetto. Proprio la loro cittadina giocherà nella nuova stagione in prima categoria dopo aver vinto la seconda, un piccolo passo per cercare di ridare a Montenero un calcio degno di un centro che ha avuto il piacere di disputare un campionato di Serie D. Sempre in prima categoria si potrebbe riaffacciare la Frentania ai pugliesi che per una stagione hanno disputato solo tornei giovanili vincendo il titolo juniores del Basso Molise. Vorrebbero ripartire per una graduale risalita dalla prima categoria, un baby molisano alla ribalta in Abruzzo, il termolese Giuseppe Letto, capocannoniere in promozione, raggiunge altri corregionali al Casal Bordino in eccellenza.